La proposta saldo e stralcio è un accordo transattivo tra un debitore e un creditore che consente di estinguere il debito pagando un importo inferiore a quello dovuto. Questa soluzione è diventata sempre più comune a causa della crisi economica, offrendo un'opzione per chiudere i vecchi debiti senza ricorrere a nuovi prestiti. In questo articolo, esploreremo i vantaggi della proposta saldo e stralcio, le regole per avanzarla in modo efficace e come coinvolgere un consulente specializzato per ottenere un accordo conveniente. 1. Cosa è la proposta saldo e stralcio? La proposta saldo e stralcio è un accordo negoziato tra un debitore e un creditore, in cui il debitore propone di pagare un importo inferiore al debito totale per estinguerlo completamente. Questo accordo può essere effettuato prima o dopo l'inizio delle azioni di recupero del credito, comprese le procedure giudiziarie. 2. Vantaggi per il debitore e il creditore. La proposta saldo e stralcio offre vantaggi significativi sia per il debitore che per il creditore. Il creditore ha l'opportunità di chiudere anticipatamente il proprio credito, evitando procedure legali lunghe e costose. Inoltre, il creditore riceve un pagamento sicuro in tempi rapidi, il che può contribuire a migliorare la liquidità della sua attività. D'altra parte, il debitore può chiudere il debito in modo stragiudiziale, evitando i costi di una trattativa legale e pagando un importo ridotto, il che può alleviare il peso finanziario e migliorare la sua situazione economica. 3. Regole per avanzare una proposta saldo e stralcio. Per presentare una proposta saldo e stralcio efficace, è importante seguire alcune regole fondamentali. In primo luogo, è necessario ottenere informazioni accurate sull'ammontare del debito, analizzando attentamente le clausole contrattuali e verificando l'interlocutore con cui si negozia. È importante accertare se l'interlocutore ha il potere di concedere uno sconto e di estinguere il debito. Inoltre, è consigliabile formulare la proposta per iscritto, poiché questa costituisce una garanzia dell'accordo e può essere utilizzata in caso di controversie legali. 4. L'importanza di un consulente specializzato. Per ottenere un accordo di saldo e stralcio conveniente per entrambe le parti, è consigliabile coinvolgere un consulente specializzato, soprattutto nel contesto immobiliare. Professionisti, come quelli di usuraepignoramenti.com, hanno esperienza nella negoziazione con i creditori e nell'ottenimento di accordi di rinuncia agli atti. Possono anche verificare le condizioni come la prescrizione del debito o la prossima vendita all'asta dell'immobile. 5. Formulazione della proposta saldo e stralcio. Nella formulazione della proposta, è importante valutare accuratamente l'importo da offrire e il tempo di pagamento. È consigliabile basarsi sulle informazioni contenute nelle banche dati per valutare l'importo da corrispondere al creditore. Una strategia convincente è essenziale per persuadere il creditore ad accettare un saldo inferiore. È preferibile proporre il pagamento in un'unica soluzione, ma in alternativa si può considerare una rateizzazione entro un limite massimo di 24 mesi. In questo articolo, più completo, troverai maggiori dettagli, saldo e stralcio. 6. L'importanza della documentazione scritta. È consigliabile redigere una lettera di richiesta di saldo e stralcio con tutti i dettagli pertinenti. La documentazione scritta costituisce una prova dell'accordo e può essere utilizzata come evidenza in caso di controversie legali. Assicurarsi che la lettera contenga tutte le informazioni rilevanti, inclusi i termini dell'accordo proposto e i dettagli del debito. 7. Agenzie specializzate in saldo e stralcio. Esistono agenzie specializzate, come usuraepignoramenti.com, che offrono assistenza professionale ai debitori desiderosi di chiudere il proprio debito in modo vantaggioso. Queste agenzie hanno esperienza nel settore del saldo e stralcio e possono fornire supporto nel processo di negoziazione con i creditori. Conclusione. La proposta saldo e stralcio rappresenta un'opportunità vantaggiosa per estinguere i debiti in modo conveniente, sia per il debitore che per il creditore. Seguire le regole per avanzare una proposta efficace, coinvolgere un consulente specializzato e formulare una proposta dettagliata sono passi fondamentali per ottenere un accordo di saldo e stralcio vantaggioso. Assicurarsi di includere tutti i punti pertinenti nella documentazione scritta e considerare l'opzione di consultare un'agenzia specializzata per un supporto professionale aggiuntivo.